Pronto? Sì, sono covatta. Volevo parlare col portiere della nazionale coreana, Arleigh. Mi fa piacere. Si può spostare un attimo dai mezzi ai pali? Se si sposta un attimo a destra e a sinistra. Bravo, così, esatto, esatto. Gol! L'ho fatto! L'ho fatto! L'ho fatto gol! Lo potete fare pure voi da casa se volete fare un gol per l'Africa, per conto di UNICEF, di AMREF. Voi basta che fate un SMS 4-5-5-0-3. E' un attimo, aspetta che adesso chiamiamo quello della Francia. Oh sì, je suis covatta. Volevo parlare con le portiere della nazionale francese. Se tu te l'evi a un momento, a un momento solo mi sento dalle pali della porta, sì? Gol! Je te le fai! Je te le fai! Au revoir! A tutta lea! Non è vero! Volevo!